Bene, continuiamo con la nostra esplorazione dell'elettromagnetismo, in particolare dell'elettrostatica. Oggi vedremo il concetto di campo elettrico, un concetto cruciale. Abbiamo già visto la descrizione quantitativa della forza con cui due cariche elettriche interagiscono, in particolare l'espressione della legge di Coulomb che trovate qui sopra, la forza di interazione elettrostatica è data da una costante che dipende sia dalle unità di misura scelte, delle grandezze fisiche coinvolte, ma anche dall'ambiente, dal mezzo nel quale le cariche si trovano, e poi è proporzionale il prodotto di due grandezze che quantificano la quantità di carica presente e coinvolta nell'interazione, è diviso per il quadrato della distanza che separa le cariche. Qui questa espressione va detto che è valida per se ho cariche puntiformi, cioè dove le dimensioni delle cariche sono molto più piccole rispetto alla distanza aerea che le separa. Abbiamo già visto l'analogia e il confronto di questa espressione con la forza di gravitazione universale, quali sono le similitudini, quali sono le differenze, e un problema quindi che coinvolge la forza elettrostatica come già coinvolgeva quella gravitazionale che diede diversi grattacappi a Newton è il fatto dell'azione a distanza, cioè ho due cariche separate da una certa distanza che pur interagiscono l'una con l'altra. Quindi si pone il problema di come fa una carica a sapere che c'è nelle sue vicinanze un'altra carica. Per aggirare questo, Newton in quell'epoca trattò il problema per le masse, dice come fa la Terra a sapere che il Sole la sta attraendo, pur se il Sole è distante 150 milioni di chilometri. E' una cosa che a Newton ha sempre dato dei grossi problemi e lui non trovò la soluzione, dice io mi arrendo, le cose stanno così, non so il perché. Il concetto che risolve questo problema è il concetto di campo, che fu introdotto da Michael Faraday, che vedremo più in dettaglio più avanti. Questo personaggio ha avuto un'enorme importanza nell'elettrodinamica. In che cosa consiste questo? Beh, immaginate di avere due cariche, una Q grande, facciamo finta che sia positiva, e un'altra Q1 più piccola, separata da una distanza R. Allora sulla carica Q1 agisce una forza F1 dovuta alla presenza della carica Q grande a distanza R. Se la carica fosse il signo apposto sarebbe attrattiva. E immaginate di fare il rapporto tra la forza F che agisce sulla carica Q è il valore della carica Q stessa. Questo rapporto, forza fratto carica, prende il nome di campo elettrico. Quindi se io piazzo una carica, si dice di solito carica esplorativa o carica di prova, cioè una carichina piccola che non altera la distribuzione delle altre cariche nelle vicinanze, e misuro la forza che agisce su questa carica, faccio il rapporto tra forza che agisce sulla carica Q piccolo, diviso la carica Q piccolo, e ottengo una grandezza che è un vettore, perché lo ottengo come rapporto tra un vettore e uno scalare. Vi ricordo che la carica appunto è uno scalare. Ed è immaginabile come una forza per unità di carica. Qual è il vantaggio di questa espressione? Il vantaggio è che dividendo per la carica Q, come detto in questo caso, immaginate di avere le due cariche Q ultiformi, il campo elettrico non dipende dalla carica esploratrice, perché questa si semplifica. Per cui dipende esclusivamente dalla posizione nel quale lo calcolo, quindi la posizione della carica Q piccolo, e da qual è la carica che genera il campo, in questo caso Q grande. Quindi se ho in una certa posizione dello spazio la carica Q grande e mi trovo a distanza R da questa, posso dire che la carica Q grande nel punto P dove calcolo il campo genera un campo elettrico che è proporzionale alla carica Q grande alla costante di Coulomb K e diviso per il quadrato della distanza del punto dove mi trovo dalla carica che genera il campo. Anche il campo, in quanto forza di natura, priorità di carica di natura elettrica, eredita le proprietà della forza elettrica, cioè vale anche per il campo il principio di sovrapposizione. Cioè avrò in un punto P se ho più cariche nello spazio dovrò sommare tutti i campi prodotti da ciascuna carica. E qual è il vantaggio dell'azione del concetto di campo? Beh, il vantaggio è il fatto che se conosco il campo nel punto P indipendentemente da come riesco a conoscerlo, questo è un problema che vedremo dopo, allora so che se piazzo in quel punto la carica Q, questa carica subisce una forza F che sarà uguale al valore della carica per l'intensità del campo. E in questo caso carica e campo sono nello stesso punto, non ho più il problema dell'azione a distanza. Torniamo un attimo indietro. Definendo campo in questo modo, forza diviso carica, allora è evidente che la forza vale anche carica per campo, basta moltiplicare a destra e a sinistra per Q. Che questa sembra una banalità dal punto di vista algebrico, ma dal punto di vista di principio risolve un grosso problema, perché per trovare la forza, ripeto, che agisce sulla carica Q piccolo posta in una determinata posizione dello spazio, è sufficiente che io conosca il valore della carica Q piccolo è il valore del campo elettrico che si trova nel punto occupato dalla carica. E quindi faccio il prodotto carica in un dato punto per campo nello stesso punto, quindi non ho più il problema dell'azione a distanza, e questo prodotto mi dà proprio la forza. Quindi posto che io sappia com'è, posto che io riesca a mappare, cioè a fare una mappa proprio del campo elettrico nei vari punti dello spazio dove mi interessa agire, sopra immediatamente quale sarà la forza che subisce una carica Q posta in quella posizione, in quella regione di spazio nella quale conosco il campo. Posso andare a mappare il campo elettrico in diversi modi. Un modo piuttosto semplice e molto efficace dal punto di vista grafico è quello di costruire quelle che si chiamano le linee di forza o linee di campo elettrico. Immaginate, guardate la figura di sinistra, di utilizzare una carica Q piccolino. Perché la carica di sprova deve essere piccola? Beh, perché se fosse troppo grande altererebbe, le forze sono sempre le di azione e reazione, la carica Q grande ha effetto su quella Q piccolo, ma anche il viceversa. Se fosse troppo grande altererebbe la posizione anche delle cariche che generano il campo, quindi andrebbe a perturbare il campo che invece voglio misurare. Quindi immaginiamo di prendere una carica Q sufficientemente piccola, di andarla a posizionare in diversi punti dello spazio e di graficare, di fare un disegno dei vettori forza che ci sono i vari punti e di dividere questo vettore per la carica che uso per misurare la forza. Questi vettorini che ottengo in diversi punti dello spazio mi aiutano ad avere un'idea grafica di com'è strutturato il nostro campo elettrico. Qui ovviamente nel caso di una carica positiva isolata, puntiforme, avrò delle freccette dei vettori campo elettrico che hanno una simmetria centrale, cioè sono di retti lungo, rette, semirette che originano in Q e si allontano, si dirigono in direzioni radiali infinitamente perché posso calcare il campo a distanza qualsiasi e quindi sono a parità di distanza hanno simmetria centrale, cioè hanno la stessa intensità, quindi a parità di distanza da Q la freccetta che ottengo ha lo stesso valore, la stessa lunghezza che diminuisce man mano che mi allontano e aumenta man mano che mi avvicino a Q e immaginate di tracciare delle curve in questo caso delle semirette che siano in ogni punto parallele o tangenti meglio al vettore campo elettrico in quel punto in questo caso che è il caso più semplice di tutti se lo facciamo otteniamo proprio delle semirette che originano in Q carica positiva e sono di rete in quel verso uscente radialmente da Q queste linee si chiamano linee di campo che cos'è la linea di campo allora in generale in una regione dove ho un campo elettrico immaginiamo di prendere un punto e di disegnare il vettore campo elettrico in quel punto la linea di campo è la curva che in questo caso è una semirette ma potrebbe essere in generale una curva come vedremo a breve che in ogni punto dello spazio è tangente al vettore campo elettrico presente in quel punto nel caso di una carica positiva puntiforme isolata cioè da sola avrò delle linee di campo che sono delle semirette uscenti da Q le semirette radiali anche come vedete nella figura qui a destra d'accordo? è chiaro che se invece la carica è negativa la struttura è la stessa ma le linee di campo sono entranti sono dirette verso la carica elettrica perché? perché la forza che agirebbe su una carica di prova esploratrice di questa regione di campo è forza attrattiva la forza sarebbe diretta verso la carica centrale negativa che qui è posta all'origine delle nostre linee di forza ok? non solo ma le linee di forza saranno tanto più numerose tanto più dense quanto più intenso il campo che vedete per esempio nella figura C la carica della figura più a destra a destra in questa pagina è più intensa di quella centrale perché le linee di forza sono più numerose e quindi dove la densità delle linee di forza è maggiore il campo elettrico è più dense più intenso e più forte se mi allontano dalla carica centrale le linee di forza che attraversano una determinata regione dello spazio sono in numero minore ok? e quindi perché? perché questo mi da mi aiuta ecco a graficare a rendermi conto a visualizzare anche la dipendenza dell'intensità del campo elettrico in funzione della posizione dello spazio nella quale voglio considerare il campo ok? immaginate appunto di avere non solo una carica ma di averne più di una come in questo caso qui abbiamo due cariche Q1 a sinistra e Q2 a destra entrambe positive e di voler calcolare il campo in punti P diversi per esempio nel punto P in alto a sinistra il campo sarà dato dal campo E1 dovuto alla carica Q1 e dal campo E2 dovuto alla carica Q2 i due campi si sommano vettorialmente come vale nello stesso modo secondo lo stesso principio di sovrapposizione che valeva per le forze quindi il campo elettrico sarà questo vettore E in azzurro dato qui ottenuto usando la regola del parallelogrammo sommando i due campi E1 ed E2 così come nel punto P' qui ovviamente in questo punto il campo sarà più intenso perché il punto P' è più vicino alle due cariche quindi avrò un vettore più lungo ma anche in questo caso avrò sommare il vettore E2' dovuto alla carica Q2 più E1' dovuto alla carica Q1 quindi in generale se ho un punto dello spazio qualsiasi P' per trovare il campo elettrico in quel punto dovrò sommare i campi elettrici prodotti da tutte le cariche che sono nella vicinanza di quel punto in realtà vicinanza è un modo di dire perché siccome il campo elettrico è un campo che ha raggio di azione infinito dovrò sommare il campo elettrico di tutte le cariche presenti non solo nelle vicinanze diciamo che se sono montane visto che il campo decresce come l'inverso del quadro della distanza se la distanza aumenta oltre un certo limite non diventa neanche più possibile misurarlo però nel principio dovrei sommare il campo prodotto da tutte le cariche presenti e in questo modo costruisco il campo elettrico totale e vedete che come in questo caso avendo cariche positive le linee di forza non sono più delle semirette ma sono delle curve in ogni punto di questo dello spazio la linea di forza che passa per quel punto è quella tangente al vettore campo elettrico risultante attenzione per costruire le linee di campo si considera il vettore risultante cioè quello dovuto alla somma vettoriale di tutti i campi prodotti dalle diverse cariche presenti ok in questo modo riesco a graficare ad avere un'idea grafica di qual è la struttura anche geometrica anche spaziale del nostro campo elettrico qui ci sono altri casi diversi per esempio qui abbiamo il campo a sinistra con il rosso qui abbiamo un campo di dipolo come si dice c'è un campo prodotto da due cariche dello stessa entità ma di segno opposto quindi avete questa struttura diciamo così affusolata se invece ho campi con cariche dello stesso segno le linee di forza si tra virgolette respingono e vedete che la struttura è leggermente diversa qui invece avete nella figura in rosso c due cariche prodotte da due cariche opposte d'accordo ma di diverse entità di diverse intensità possiamo usare una simulazione del fret qui c'è la simulazione del campo elettrico del fret qui abbiamo un sensore vedete che se metto questo sensore nello spazio non avendo carica non ho nulla se metto una mia carica una carica positiva nel campo visualizza il campo ma lo cancello vado a misurare il campo elettrico vedete cosa trovo a seconda di dove mi trovo trovo un vettore più o meno intenso più o meno lungo sempre diretto radialmente in questo caso nel verso di allontanamento della carica positiva immaginate di farlo tante volte di disegnare i vettori trovate in ogni freccetta la direzione del campo questa è una mappatura del campo elettrico prodotto dalle cariche se poi metto due vicine di segno opposto avrò una struttura di linea di campo simile a quella che abbiamo visto prima nella figura mettiamo invece un dipolo due cariche uguali ma opposte e vedete che avete questa struttura affusolata si può anche graficare la griglia sotto per avere un'idea delle posizioni poi se aggiungo altre cariche possono avere strutture ancora più complesse ok e in ogni punto quindi avrò un campo elettrico che è il risultante dei campi dovuti a diverse cariche che ho nella mia regione di spazio nella quale voglio mappare il campo nel prossimo video vediamo questo preso dalla lezione del professor Walter Lewin dove ho messo il link un'ottima visualizzazione delle linee di campo elettrico ottenute mettendo in sospensione in un liquido dei semi di erba dei semini dei sementi che sono sostanze non conduttrici che però in presenza di campo elettrico si polarizzano e quindi si orientano lungo le direzioni delle linee di forza del campo adesso vedrete che cosa otteniamo ditemi se sentite l'audio ecco questo è un liquido dove sono in sospensione i semi semi di erba quindi sono disorientati completamente distribuiti a caso poi ci sono due sfere due palline carichi palline conduttrici che adesso sono scariche vedete che non c'è nessuna orientazione adesso le carica e caricandole i semi di erba si orientano lungo le linee di campo e vedete questa struttura fuso proprio qui ovviamente non vediamo la punta delle frecce perché la polarità delle due cariche non è evidente però è chiaro che sono polarità opposte perché le linee di campo vanno da l'una all'altra se aumentiamo la carica il campo si intensifica quindi diventa più evidente questo è un campo di dipolo se adesso mettiamo due cariche con la stessa polarità prima ovviamente va rimescolato il fluido modo di cancellare il campo precedente si mette la stessa polarità su entrambe cariche dello stesso segno eccolo vedete che è la struttura che abbiamo visto prima in quel disegno ok ritroviamo la struttura che abbiamo visto prima appunto questa struttura in alto nel caso delle cariche con la stessa polarità vedete che nella zona centrale il campo è nullo perché il campo deve essere attrattivo verso sinistra dovuto alla carica di sinistra attrattivo verso destra vedete la carica di destra e quindi le due avvenne lo stesso campo i due campi si cancellano perché hanno la stessa intensità ma verso l'opposto mentre nel caso sotto il campo di dipolo nel punto medio centrale il campo è intenso perché è un campo che si allontana da più Q si avvicina verso meno Q e quindi ha la stessa direzione e il stesso verso perché in quel caso i due campi si sommano e quindi le regioni di campo più intenso ok proseguiamo immaginiamo di avere una sfera carica una sfera conduttrice carica ok se carico una sfera conduttrice qui supponete che questo arco superiore sia la superficie della sfera allora in condizioni di staticità cioè dopo che le cariche sulla sfera hanno raggiunto l'equilibrio il campo elettrico risultante necessariamente sarà un campo perpendicolare alla superficie della sfera o del conduttore in generale perché perché se ci fosse un campo elettrico anche tangenziale alla superficie del conduttore allora le cariche sarebbero soggette a una forza parallela alla superficie quindi si muoverebbero sarebbero non sarebbero più in equilibrio invece quando carichiamo un conduttore le cariche elettriche nel conduttore possono spostarsi possono muoversi raggiungono una distribuzione tale che il campo elettrico risultante finale ripeto dopo che le cariche hanno raggiunto l'equilibrio è in ogni punto della superficie del conduttore perpendicolare alla superficie stessa proprio perché in quel modo lì le cariche non sono più in moto cioè hanno raggiunto l'equilibrio se così non fosse e avessimo campi paralleli alla superficie avremmo anche forze sulle cariche parallele alla superficie quindi le cariche sarebbero in moto si smuoverebbero sotto l'azione di questo campo elettrico parallelo alla superficie e quindi non avremmo l'equilibrio l'equilibrio si raggiunge quando tutto il campo elettrico presente sui punti della superficie è perpendicolare alla superficie stessa questo è un esempio per esempio abbiamo una sfera conduttrice immersa in un campo elettrico omogeneo e vedete che punto per punto il campo elettrico sulla superficie della sfera è perpendicolare almeno localmente alla sfera stessa successivamente vedremo che le cariche si distribuiscono sulla superficie in modo tale che il campo elettrico all'interno sia nullo ma questo lo vedremo tra un attimo questo non avviene altrimenti se la sfera non è conduttrice è una sfera isolante le cariche al suo interno si polarizzano e quindi il campo elettrico sulla superficie dell'isolante non è detto che sia perpendicolare alla superficie dell'isolante ma proprio perché in quel caso lì la distribuzione delle cariche libe le cariche non sono libere di muoversi e quindi il campo elettrico può benissimo essere non perpendicolare alla superficie senza che le cariche si muovano perché le cariche negli isolanti sono confinate sono vincolate nella regione nella quale appartengono ok immaginiamo adesso di avere un anzi scusate completiamo quanto abbiamo appena visto sulla distribuzione di carica sui conduttori e il caso più semplice di conduttore è quello della sfera ok se carichiamo una sfera conduttrice con una determinata carica grande per esempio per simmetria la carica si distribuisce sulla superficie della sfera perché perché le cariche immaginate di avere solo due cariche positive due protoni ok messi caricati sulla sfera conduttrice beh questi si respingeranno e tenderanno ad andare lontano quanto più possibile l'uno dall'altro e i punti più possibili più lontani possibili sono punti che appartengono alla superficie della sfera ok lo stesso se succede se aumento il numero di cariche cercheranno di stare quanto più lontani l'uno dalle altre e quindi si distribuiranno fatalmente sulla superficie della sfera all'interno della sfera non ci saranno cariche all'interno della sfera non sarà carica tutta la carica che noi possiamo versare o mettere o porre o trasferire ancora meglio su un conduttore si dispone sulla superficie esterna ok nel caso della sfera la distribuzione sempre per simmetria sarà una distribuzione omogenea cioè in ogni punto della superficie della sfera avrò la stessa densità di carica che sarà data da la carica totale acquisita dalla sfera diviso la sua superficie in questo caso la superficie della sfera che è 4 pi greco di raggio al quadrato quindi la densità di carica sulla superficie di una sfera conduttrice carica sarà la carica totale q diviso 4 pi greco raggio della sfera al quadrato ok e qui avete indicato con delle semirette azzure orientate questo vedete che il campo elettrico prodotto da questa sfera carica conduttrice e carica e vedete che in ogni punto il campo elettrico è sempre perpendicolare alla superficie stessa d'accordo se invece il conduttore non è o non ha una forma semplice o non ha una forma sferica allora di fatto la carica si addensa dove la superficie è più curva dove la curvatura è più grande ok dove quindi ho punti dove la superficie si incurva di più lì avrò la densità maggiore questo lo vedremo meglio più avanti quando utilizzeremo il concetto di capacità di un conduttore cioè quanta carica un conduttore è in grado di acquisire per ora prendiamolo come fatto sperimentale immaginate di avere questo oggetto sferoidale conduttore se lo carico la carica si dispone in modo che la densità cambia a seconda di come è fatta la superficie più la superficie è piana più la densità è piccola più la superficie presenta delle punte delle curve rapide più la densità di carica è alta analogamente la stessa cosa vale se immergo questo conduttore in un campo elettrico omogeneo esterno e in questo caso vedo che anche qui le cariche si distribuiscono in modo tale da far sì che il campo elettrico sulla superficie esterna della sfera qui vedete le linee di forza sia perpendicolare in ogni punto alla superficie della sfera stessa e anche in questo caso la densità locale di carica è più piccola dove la superficie dell'oggetto è più vicina a un piano ok a breve vedremo usando il teorema di Gauss che la regione interna del conduttore è priva di campo è tale che il campo elettrico all'interno è zero questa proprietà la proprietà della carica di addensarsi dove la curvatura della superficie di un conduttore è più alta è quello che si chiama potere delle punte ed è quello che viene utilizzato nei parafulmini ok il parafulmine è un'asta metallica una puntita che è collegata al terreno e nel caso di un evento atmosferico temporalesco le nuvole acquisiscono per strofinio energia carica elettrica e quindi tra la superficie della terra e le nubi viene a crearsi un campo elettrico l'aria normalmente è un isolante ma in condizioni di campo elettrico elevato si possono verificare delle scariche elettriche cioè si dice che il campo elettrico in quel mezzo anche se è un isolante è talmente intenso che il dielettrico viene rotto viene perforato viene trapassato da scariche elettriche che sono quelle che noi chiamiamo altrimenti i fulmini e dove si scaricano i fulmini e si scaricano nelle zone dove il campo elettrico è più elevato il fulmino è un altro che cariche elettriche in transito in passaggio e le cariche elettriche dei fulmini vengono guidate dalle linee di campo elettrico e quindi l'interesse di chi abita in una data casa in un dato edificio fare in modo che anziché il fulmine vada a colpire strutture importanti o delcate della casa che si scarichi verso vie che gli rendono la via più facile niente di meglio che costruirgli un percorso agevolato che quindi prevede un punto dove il campo elettrico è più intenso e in particolare proprio la punta del nostro parafulmine in questo modo si fa sì che le cariche elettriche trovino una via per scaricarsi a terra una via che preveda insomma di evitare che il fulmine stesso danneggi cose che altrimenti sarebbe sarebbero quelle che il fulmine colpirebbe in assenza di di questa via facilitata ecco per scaricarsi a terra il potere delle punte qui avete un altro esempio importante di un dispositivo che usa il potere delle punte è un generatore di Van de Graaff che è fatto in questo modo c'è una sfera superiore metallica ok e un il punto A il pollo A è collegato alla terra e viene caricato per strofinio da questo rullo inferiore ok per strofinio si carica e le cariche vengono richiamate dal dal terreno e trasportate su questo nastro che anche questo è un nastro dove le cariche vengono a trovarsi e sempre per il potere delle punte passano o caricano ancora meglio la la sfera superiore ok e questo è un sistema piuttosto semplice che quindi carica il nastro per strofinio e trasferisce le cariche proprio utilizzando l'aumentare della densità di carica nel posto dove la curvatura del conduttore è maggiore e qui si possono avere anche diverse campi elettrici anche molto molto intensi detto questo andiamo a considerare un'altra aspetto un'altra grandezza un'altra quantità fisica fondamentale per caratterizzare il campo non solo il campo elettrico lo vedremo anche in futuro per il campo magnetico che è la seguente cosa il concetto di flusso di campo in realtà il concetto di flusso del campo elettrico in particolare il flusso di un campo vettoriale nasce da un problema idrodinamico immaginate di avere un vaso dove un conduttore dove scoria dell'acqua e di essere interessati a quanta acqua attraversa la sezione del vostro conduttore in questo caso della sezione del fiume nel caso del campo elettrico immaginate torniamo un attimo a una delle prime figure che abbiamo visto ecco per esempio questa immaginate qui di avere una superficie una sfera centrata sulle cariche focalizziamoci sulla figura di sinistra vedete che se io racchiudessi questa carica positiva attorno a una sfera allora le linee di campo che escono dalla nostra carica positiva attraversano tutta la nostra sfera ok e se considero cariche diverse il numero delle linee di campo che escono per esempio è un numero positivo nel caso della sfera positiva mentre è negativo nel caso della sfera negativa perché qui le linee di campo entrano prendiamo come positive quelle che escono ok e se confrontate la seconda e la terza figura vedete che se la carica è più intensa la stessa sfera centrata sempre nella carica nella carica di destra rispetto a quella centrale è attraversata da più linee di campo perché perché ci sono più la carica interna alla nostra superficie è più intensa quindi il numero di linee di campo che attraversano una certa superficie è qualcosa che è legato alla carica che produce il campo ok e anche alla intensità del campo in quella in quella zona qui come verificato con la dove era la figura che avevo eccola qui immaginate di avere questo campo omogeneo tutto rappresenta queste frecce rosse e di avere un rettangolo un rettangolino e di essere interessati a contare quante linee di campo attraversano questa superficie la grandezza fisica che misura questo si chiama flusso del campo elettrico attraverso la superficie che avete preso in considerazione ok immaginiamo di avere queste due situazioni guardate bene la figura di sinistra abbiamo una superficie S che si trova lungo il piano ZX che è il campo elettrico tutto diretto lungo l'asse delle Y in questo caso la superficie del nostro S1 è attraversata da una due tre linee di campo immaginate adesso di ruotare S1 ok adesso avete che la superficie è di ruotarla di un angolo teta quello che sia in questo caso la superficie adesso è molto più grande ok e se volete deproiettata di un angolo teta se proietto S2 sul piano ZX ottengo la stessa superficie però adesso S2 è molto più grande però il numero delle linee di campo che le attraversano è sempre lo stesso cioè tante linee di campo attraversano S1 tante attraversano S2 quindi in realtà non è tanto importante quanto grande è la superficie solo quanto grande è la superficie ma anche come è orientata per cui conterà anche l'angolo che i vettori campo elettrico sulla superficie formano con la superficie stessa in particolare con la direzione perpendicolare alla superficie ok questo perché questo sta a indicare il fatto che se voglio quantificare in modo adeguato il concetto di flusso dovrò tenere conto sia dell'intensità del campo che dell'ampiezza della superficie attraverso cui voglio calcolare il flusso ma anche dell'orientazione reciproca tra la direzione del campo elettrico e tra virgolette la direzione della superficie in particolare si prende a riferimento sempre la direzione dell'asse perpendicolare alla superficie per questa ragione si associa ad ogni superficie non solo la entità dell'area della superficie ma anche un vettorino n che è diretto perpendicolarmente alla superficie stessa quindi possiamo immaginare anche un vettore area che ha un'intensità pari alla misura della superficie dell'area ed è diretto perpendicolarmente all'area stessa ok quindi questo ti è in conto in questo modo si è in conto sia della grandezza dell'area in questione che della sua orientazione ok e quindi il vettore area come faremo a definirlo beh se ho una superficie regolare semplice un rettangolo allora sarà semplicemente l'area del rettangolo per il valore normale se invece ho una superficie curva con torta strana allora potrei immaginarla divisa in tanti piccoli rettangolini e a ciascun piccolo rettangolino associa la superficie in quel punto per il vettore normale alla superficie in quel punto tanto più inoltre se la superficie è chiusa allora n il vettore normale n sta per normale che significa perpendicolare alla superficie è diretto sempre verso uscente dall'interno verso l'esterno la superficie è chiusa invece se la superficie è aperta può essere diretto da un lato oppure dall'altro d'accordo? morale della favola vediamo appunto a noi come definiamo il flusso del campo elettrico E attraverso la superficie A beh il flusso del campo elettrico immaginando che la superficie S sia sufficientemente piccola in modo tale che il campo elettrico non cambi sensibilmente al suo interno allora il flusso del campo ripeto attraverso la superficie è definito dal prodotto scalare tra il vettore campo elettrico e il vettore superficie cioè il vettore campo per il vettore perpendicolare alla superficie per l'entità alla montare della superficie stessa o in termini di prodotto scalare se preferite l'intensità del campo elettrico sulla superficie E per il valore della superficie A per il coseno dell'angolo che il vettore campo elettrico forma con la perpendicolare alla superficie stessa punto per punto ovviamente nel caso del campo elettrico omogeneo quindi cambia la stessa intensità e la stessa orientazione non ci sono dubbi su quale E e su quale Alfa utilizzare d'accordo? attenzione il flusso del campo elettrico è uno scalare ok lo tengo come prodotto scalare di due vettori e il prodotto scalare tra i vettori è lunghezza del primo vettore per lunghezza del secondo vettore per il coseno dell'angolo tra i due vettori qui il primo vettore l'abbiamo visto nella vecchia conoscenza il campo elettrico il secondo vettore è questo nuovo vettore introdotto qui il vettore area che ha come intensità la grandezza dell'area attraverso cui voglio calcolare il flusso e come direzione la retta perpendicolare all'area cioè la normale al piano dell'area d'accordo? perché ci interessa tanto il flusso? beh perché nel caso del campo elettrico questo dà luogo a una proprietà un teorema vero e proprio molto importante molto efficace immaginate e dopo tra un poco mi fermo vediamo questa per ultimo poi riprenderemo la prossima volta di avere una carica puntiforme Q piccolo isolata al centro della nostra sfera e di considerare una sfera centrata in Q piccolo e di raggio R grande ok? allora abbiamo già visto che le linee di forza che escono da Q piccolo attraversano tutte la nostra superficie S di raggio R in particolare a distanza R dal centro il campo elettrico ha lo stesso valore dappertutto perché dipende solo dalla distanza da R quindi su una superficie sferica concentrita alla carica Q il campo elettrico sarà K costante di Coulomb per la carica Q puntiforme piazzata al centro diviso il raggio della sfera al quadrato se calcoliamo il flusso di questo campo attraverso tutta la superficie chiusa ok? in ogni punto della superficie il campo elettrico E sarà perpendicolare alla superficie e quindi parallelo il vettore N il vettore normale è diretto come il vettore R il vettore posizione per cui l'angolo tra campo elettrico e il vettore normale sarà sempre 0 e il coseno di 0 vale 1 quindi questo ci semplifica la vita in conseguenza il flusso del campo elettrico attraverso la superficie della sfera sarà K volte Q diviso r quadro che è la intensità del campo per il valore dell'area che è 4 pi greco r quadro qui vedete che i due r quadro si semplificano quindi r va via per cui il flusso del campo elettrico dipende solamente da Q cioè dalla carica contenuta dentro la sfera un altro modo per scrivere la stessa cosa è ricordarsi che K costante di Coulomb può anche essere scritta proprio per questa ragione perché i 4 pi greco si semplificano come 1 su 4 pi greco epsilon 0 dove epsilon 0 è la costante dielettrica del vuoto una grandezza fisica che è relativa al vuoto che invece cambia se siamo in presenza di un mezzo ma diciamo che in un mezzo ha questo indicato da questo simbolo quindi i 2 4 pi greco si semplificano per cui possiamo dire che il flusso del campo elettrico attraverso una sfera una superficie chiusa che contenga la carica Q vale il valore Q della carica diviso epsilon 0 ok questo in realtà non dipende da quanto grande è la sfera perché R non c'è più R è semplificato si semplifica per cui anche se prende una sfera piccola o grande il flusso del campo elettrico è lo stesso e infatti come vedete se prende in considerazione la sfera piccola di raggio R1 tutte le linee di forza che attraversano R1 attraversano anche la sfera di raggio R2 tante ne entrano in questa tante ne escono dall'altra per cui il flusso del campo elettrico non dipende sicuramente dal raggio della sfera ma neanche dalla sua forma è sufficiente che la superficie sia chiusa qui abbiamo una superficie S' che è regolare una sfera e una S che è irregolare però è chiusa e contiene la stessa carica e quindi il flusso della carica del campo elettrico attraverso S' attraverso S è esattamente lo stesso quindi in generale il flusso del campo elettrico è attraverso una superficie chiusa attenzione è uguale alla somma di tutte le cariche al valore totale delle cariche interne alla sfera diviso y0 se siamo nel vuoto diviso y0 e yr se siamo in un mezzo ok se la carica è esterna in questo caso è esterna vedete che tante linee entrano quante ne escono quindi in questo caso il flusso attraverso questa superficie S nel caso della figura è 0 perché la carica che genera il campo è esterna alla sfera quindi produce linee di forza che entrano ed escono dalla nostra superficie per cui quelle che entrano sono conteggiate con segno negativo quelle che escono con segno positivo tante entrano tante escono totale 0 se la carica interna della nostra superficie chiusa S è nulla il flusso sarà nullo attenzione campanello d'allarme il fatto che il flusso sia nullo non significa come in questo caso che il campo sia nullo il campo nella regione occupata dalla nostra sfera può benissimo non essere 0 anche se il flusso lo è ok perché il campo non è 0 perché è prodotto da questa carica q piccolino ma siccome la carica q piccolo è fuori della superficie S chiusa allora essendo nulla la carica interna il flusso è nullo però il campo c'è lo stesso così come nel caso della superficie B questa superficie contiene un dipolo elettrico o una carica positiva o una carica negativa della stessa entità le due cariche in totale danno totale nullo quindi il flusso elettrico è nullo tante linee di forza entrano tante linee di forza escono e così il totale è 0 mentre nel caso C invece le due superfici S1 ed S2 sono attraversate dalle stesse quantità di carica quindi il flusso attraverso la superficie non dipende dalla forma della superficie ma solo dalla carica interna alla superficie ok è carica interna diviso y0 costante di elettrica del vuoto ed ecco qui la formulazione generale del teorema del flusso del campo elettrico ho detto anche il teorema di Gauss se considero una superficie S chiusa il flusso del campo elettrico E attraverso la superficie chiusa S è dato dalla somma algebrica di tutte le cariche interne alla superficie diviso y0 se sono nel vuoto oppure y0 per yr se sono in un mezzo qualsiasi di costante di elettrica relativa yr e per oggi mi fermerei qui se non ci sono domande ok ai